La partita di Noceto a noi non è andata bene perché ci ha un po' interrotto la nostra continuità che avevamo dall'inizio dell'anno avendo perso una sola partita fino a quel punto lì e non è andata bene più che altro a livello di impatti fisici siamo stati un po' carenti e anche a livello difensivo abbiamo un po' sofferto ora chiaramente abbiamo lavorato su questo in settimana per preparare al meglio poi la prossima partita sarebbe importante per noi vincere la partita contro Petrarca per rilanciarci dopo la sconfitta contro Noceto più che altro perché per tanti di noi è quasi un derby perché tanti giocavano a Petrarca tanti ci hanno giocato anche contro in questi anni e comunque sento che in queste settimane ci stiamo allenando bene e possiamo arrivare al meglio possibile ad affrontare questa partita e poi tutte le altre che verranno dopo perché abbiamo un filone di partite consecutive abbastanza intenso e importante